Il governatore regionale Michele Emiliano dunque vara il comitato tecnico-scientifico pugliese per quanto riguarda la ripartenza nella nostra regione. Sarà lui stesso il presidente, mentre il suo vice sarà Pierluigi Lopalco che è stato fino a qualche giorno fa il responsabile della task force regionale pugliese. Emiliano dice che sarà un lavoro di compronto e di consultazione con tutte le associazioni di categoria. Dunque saranno formulate precise prescrizioni di misure igienico-sanitarie con l'impegno per i cittadini a rispettare principi di orientamento e di rispetto del cliente di innovazione e di miglioramento nei continui processi di trasformazione e di flessibilità dell'ambiente e della legalità. E adesso continuiamo il racconto di Speciale News Web 24 per quanto riguarda la dodicesima edizione del premio letterario nazionale Zingarelli. Abbiamo da completare l'intervista che abbiamo realizzato con la poetessa Teresa Deliberto. Ecco la seconda parte dell'intervista.